A due passi dalla stazione ferroviaria di Pesaro, questa mattina si è alzato il sipario su PAC, Performing Arts Center, sviluppato da due registi di caratura nazionale come Giampiero Solari e Paola Galassi. Si tratta di uno spazio che sarà punto di riferimento per tutti quei giovani che desiderano esplorare il mondo del teatro e dello spettacolo. E per approfondire l'espressione artistica e culturale che verrà trasmessa dai docenti attraverso corsi e lezioni, il rifugio scelto sarà in grado di offrire di tutto ai suoi studenti. Un'ampia sala, un palcoscenico, camerini, laboratori e strumentazione tecnica di ultima generazione. Nell'ultima settimana di settembre partiranno dei corsi di prova gratuiti, dopodiché dai primi di ottobre debutteranno le lezioni vere e proprie, alle quali i giovani di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza potranno iscriversi e partecipare. Noi offriamo un ventaglio di corsi che vanno dai corsi per bambini dai 6 agli 11 anni e sarà un corso di teatro, di recitazione, di scenografia, di costume. Faranno tutto, si faranno tutto da soli insieme a noi docenti. Poi ci sarà un corso per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, che invece sarà tenuto da Sandro Fabiani. Anche questo comunque di performance, cioè non è solo recitazione, ma è anche legato alla danza, all'ascolto, tutto il lavoro dell'ascolto del proprio corpo, il movimento, la voce, eccetera. Poi c'è un corso invece che abbiamo chiamato dei talenti, dei giovani talenti, che è quello che va dai 16 ai 21 anni, per ragazzi che già in qualche modo, o che hanno già fatto qualcosa e che comunque desiderano in qualche modo intraprendere questa strada, che sia il teatro, che sia la televisione, che sia lo show, che sia qualsiasi forma di arte, anche cantanti. Ma stare sul palcoscenico, io ho fatto anche per X Factor, ero docente di tenuta di palcoscenico, cioè chi segueva il daily mi vedeva, perché io insegnavo a tenere palcoscenico ai ragazzi che poi cantavano, perché non è che devi solo saper cantare, devi anche reggere il palco, sostenere il grande pubblico. Corsi di recitazione base per adulti, tenuto da Fabrizio Bartolucci. Poi c'è il corso invece di recitazione plus, con Gian Piero Solari come docente, Andrea Caimmi, ci sono anch'io e altri ospiti, coreografi, cioè tutti i professionisti di svariate discipline legate al teatro che verranno a fare delle lezioni, che siano autori, registi, attori, coreografi, danzatori. Poi c'è invece il corso per i comici, perché qui noi abbiamo avuto l'esperienza di San Costanzo Show, che avevo cominciato io ormai tantissimi anni fa, avevo fatto questa selezione cercando i comici, e me ne erano arrivati 44, e da lì poi insieme a lavorare e la compagnia esista ancora. Poi ci saranno delle masterclass, ci saranno dei workshop sabato e domenica che tratteranno altre cose, che avranno a che fare anche con corsi per le maestranze, per sartoria, tecnici, oppure arriveranno ospiti a fare masterclass di una certa importanza, nomi grossi che stiamo contattando. Nomi grossi sono anche quelli di Solari e Galassi, che nel corso della loro carriera hanno scoperto talenti dello spettacolo, della portata di Ale Franz, Aldo Giovanni e Giacomo, Rosario Fiorello, Antonio Albanese e tanti altri. Li conosco, abbiamo un po' il talento di saper cogliere quel qualche cosa di unico che c'è in ogni persona, per cui se poi vai a lavorarci sopra. Il centro per il performatore, che non è solo attore, e anche altre cose, può essere scrittore che poi fa l'attore, o anche danzatore, o anche cantante che poi fa l'attore. Ci sono tanti elementi che nel performer si uniscono. Vogliamo che i giovani trovino un luogo aperto, che apra la testa, che non chiuda delle cose. Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti